E' stato un 2018 col botto, quello di poste italiane. L'azienda ha raddoppiato l'Utile, chiudendo l'anno con un risultato netto pari a 1.399 miliardi di euro a conti fatti, 709 miliardi in più rispetto al precedente esercizio. Utile, netto e operativo, spiegano in una nota dalla compagnia, hanno superato gli obiettivi del piano industriale Deliver 2022. I ricavi aumentano del 2,2% e il Consiglio di amministrazione proporrà all'Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,441 euro in aumento del 5%.